Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi iniziamo la settimana finalmente con un po' di verde e soprattutto con una grandissima forza ritrovata per la regina delle crypto. ITER infatti parte in quarta, tra le altre cose inverte anche il suo trend contro Bitcoin ridando un po' un segnale di forza dopo settimane di debolezza anche contro Bitcoin perché ITER è stato estremamente più debole. Bitcoin resiste ma non insiste potremmo dire così perché fa un pump adeguato ma come sempre non va a breccare poi quelle che sono le resistenze chiave quindi in sostanza oscilla intorno a prezzi medi abbastanza bassini diciamo rispetto agli ultimi mesi quindi 35-33 mila dollari circa e poi insomma fa lateralizzazione. Ci sono un sacco di news che questa settimana sono uscite fuori tra cui quella di Binance ieri e il nuovo stop del regolatore britannico con l'FCA che blocca Binance per alcune problematiche lo vedremo oggi in questo video e poi anche la questione della Cina che sta continuando il deflusso dei miner dalla Cina per spostarsi probabilmente negli Stati Uniti diciamo ragazzi. Allora questa questione sicuramente ha dei pro e dei contro da alcuni punti di vista sicuramente può essere vista in maniera molto positiva perché la stabilità magari di alcune tipologie di aziende in USA è un po' meglio rispetto a diciamo le febbri cinesi che si alzano una mattina dicono una cosa si alzano dicono un'altra. Va bene allora oggi andiamo a fare un po' il briefing della situazione e poi vi porto anche a vedere delle analisi cicliche soprattutto quella di ETH perché su Ethereum faremo un briefing proprio un focus oggi perché ragazzi sta facendo delle cose importanti. Tant'è vero che io sono rientrato con i miei ETH oggi con un 25% di quelli che erano stati venduti un mesetto fa circa quindi giusto una ricalibrazione del portafoglio insomma dopo le ultime vendite quindi nulla di anomalo. Però ragazzi mi era piaciuto tantissimo questo atteggiamento di Ethereum e soprattutto quello che vi farò vedere nella ciclica di oggi quindi vedremo comunque Bitcoin anche un'idea che mi era venuta qualche giorno fa. Ho condiviso questa idea sul mio canale Telegram gratuito vi lascio il link in descrizione ragazzi del canale Telegram e lì trovate insomma un'idea che avevo condiviso. La vedremo anche oggi come idea generale su Bitcoin ok ma prima di andare avanti ragazzi allora iscrivetevi al canale Telegram e lasciate un mi piace va bene ragazzi la solita cosa ormai lo sapete allora fatemi sapere anche nei commenti cosa ne pensate se anche voi state iniziando a prendere le posizioni ma fra qualche giorno esce un video importantissimo su un indicatore che vi spiegherò che indica che in questo momento la fase di accumulazione per Bitcoin in particolar modo potrebbe essere nuovamente iper profittabile. Vi pubblico questo indicatore fra qualche giorno perché ho già registrato il video ragazzi allora andiamo a vedere quello che intanto è la questione legata a Binance quindi qualche briefing leggerissimo sulle news. Allora Binance abbiamo questo problema legato al regolatore britannico da quello che so io ragazzi allora questa cosa era già un po' nell'aria ve lo dico chiaramente quindi non è una grande novità e probabilmente non ha scosso moltissimo i mercati che un po' ci aspettavano questa cosa anzi non dovrebbe essere l'unica il UK a fare questa cosa contro Binance deve mettere a posto un po' delle documentazioni e insomma secondo me ragazzi è solo questione di burocrazia ma poi sistemeranno tutto quindi do un peso molto molto basso a questo tipo di news in termini di movimenti di mercato secondo me non fanno grandi movimenti di mercato queste news in linea di massima. Direi che quello che fa sicuramente più news in questo momento è proprio il crollo dell'ash rate ragazzi questo è un crollo dell'ash rate non vedevo una cosa del genere veramente da anni 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 ma è un crollo che è dovuto a una duplicità di situazioni messe insieme quindi vanno anche sapute valutare queste cose sicuramente la questione legata ai miners cinesi che stanno staccando le macchine ragazzi insomma siamo arrivati veramente a periodi di un anno fa con l'ash rate di bitcoin circa addirittura se brecca questo tipo di livello di minimo ce ne andiamo veramente a due anni indietro quindi novembre 2019 è negativo sì assolutamente però ricordiamoci che non è un'uscita dei miners dovuta al fatto che stanno disincentivando la tecnologia della blockchain eccetera non è questo è semplicemente un trasferimento quindi un distacco di alcuni miners per lo spostamento probabilmente negli Stati Uniti è il riallaccio dell'ash rate poi c'è anche la questione legata al price perché se il prezzo di bitcoin scende tantissimo i miners staccano le macchine perché non sono profittevole e quindi le staccano anche per far scendere la difficulty ragazzi chi conosce il meccanismo dell'algoritmo di bitcoin che si autoregola con la difficulty ogni due settimane sa benissimo quello di cui sto parlando quindi questi dati sono preoccupanti? assolutamente no sono dati che ci indicano in questo momento l'attuale situazione sono uno specchio dell'attuale situazione ma in sostanza a una fase di rincremento dei prezzi di bitcoin probabilmente assisteremo anche a una nuova fase di riallaccio dei miner e quindi della possibilità di avere nuovi hash rate che vanno poi a crescere quindi la questione legata all'ash rate secondo me si risolve e così mi piace anche invece farvi vedere un altro indicatore fondamentale oggi prima di passare poi alla ai grafici perché questo è un indicatore interessante allora è l'indicatore delle stablecoin presenti sui exchange cioè ragazzi cosa significa analizzando in maniera molto chiara? allora significa che sui exchange del mercato delle cripto ci sono tantissime riserve di stablecoin che è questa linea arancione rossa che vedete sono sempre state in fase di crescita anche durante il crollo dei mercati di bitcoin perché semplicemente probabilmente intanto moltissimi hanno poi cambiato alcune cripto in stablecoin e quindi la presenza diciamo di stablecoin è aumentata ma poi perché semplicemente le stablecoin aumentano perché ne stampano di più proprio per seguire quello che è il naturale flusso della market cap del settore cripto quindi le stablecoin sono una specie di controparte e quindi mentre salgono un po' le valorizzazioni si stampano anche tanti tether per esempio e altri tipi di stablecoin quindi questa fase però questa riserva di stablecoin presente negli exchange è importante perché ci indica che il settore sta raggiungendo o comunque si sta assestando a un nuovo livello di equilibrio ma non è che sia successo diciamo una fuoriuscita per esempio tante stable che sono state vendute sono state chiuse e le operazioni sono usciti tutti in cash out con usd o euro no semplicemente ragazzi c'è veramente una massiccia liquidità anche di tether che potrebbe essere riversata poi nel settore questo io lo vedo un po' come un indicatore ragazzi di scusate sono frizzato con la telecamera allora lo lascio comunque ragazzi va bene allora io questo lo vedo un po' come un indicatore di stabilità del mercato in generale quindi come il fatto che il mercato ci stia indicando che tutto sommato quello che stiamo vedendo anche in questi giorni non ha scalfito le fondamenta del mercato cripto e tutto è abbastanza stabile allora passiamo invece a vedere quelle che sono le analisi relative alla ciclica qui già davanti c'è una di quelle prospettive che stavo indicando nel video telegram che ho fatto due giorni fa sono una mia idea generale ho indicato la possibilità che bitcoin stesse facendo un'anomalia su un mensile insomma comunque ragazzi allora intanto ragioniamo sulla normale ciclicità quella che stiamo di cui stiamo parlando da un po' poi chi volesse magari approfondire questa idea che mi era venuta in mente un po' di giorni fa io l'ho condivisa con il canale telegram e anche l'academy perché ovviamente è un'idea non dico strampalata però è un'idea mia è semplicemente un'idea quindi l'ho condivisa con loro quindi andate poi sul canale telegram link in descrizione gratuito e vi guardate il video se volete diciamo approfondire quella cosa allora da un punto di vista standard ragazzi il ciclo di bitcoin potrebbe aver raggiunto una sua fase di minimo proprio con il 22 di giugno questo tecnicamente sia se si fa iniziare il ciclo mensile sui minimi del 19 maggio o sul minimo del 23 come quello delle state delle altre altcoin o di iter per esempio potrebbe essere indicativo di una fase conclusiva del ciclo mensile poi c'è la questione annuale qualcuno di voi mi prende in giro che io dico annuale a tutti i video è vero ragazzi purtroppo ce l'ho in testa comunque la partenza di nuovo ciclo annuale sarà l'unica cosa che può portare bitcoin nuovamente sui massimi senza quello scordatevi i nuovi massimi ragazzi allora non lo diciamo per altro diciamo per questo perché è talmente importante questo tipo di ciclo che veramente intanto lo si aspetta proprio per mesi mesi e mesi proprio perché è la parte che poi dà la possibilità di avere un grande pump perché proprio insomma durò un anno ragazzi ok quindi giusto per capirci va bene allora questa zona qui tecnicamente potrebbe aver concluso il 22 ora poi vi accenno a questa mia idea sul fatto che bitcoin potrebbe aver giocato sporco qui in questa fase perché è una fase estremamente complessa dal punto di vista ciclico con oscillazioni sopra e sotto barra di congestione breakout annullati fake breakout insomma ha fatto veramente di tutto di più ma ci sta perché voglio dire in questi tipi di fasi il mercato di solito tenta di buttar giù diciamo chilo caval che questo diciamo è abbastanza normale ragazzi non è anomalo ma effettivamente questo tipo di movimento potrebbe essere stato chiuso come ciclo mensile qui ora qual è la questione in corso che anche se dal 22 di giugno è passato già circa una settimana il mercato nonostante diciamo abbia un po' recuperato una fase di di app ha fatto circa sei giorni ad oggi ragazzi in realtà non ha breccato però nessun tipo di livello importante intanto per esempio le famose media che uso ormai le conoscete 21.11 questo sul time frame daily su questo tipo di time frame insomma ragazzi sono delle medie che ci indicano la fase per probabilmente il ciclo mensile e non la breccatevi come vedete bitcoin ci sta dentro e da una parte e dall'altra in pratica non ha dato nessun segnale vero di una ripresa di trend anzi il ribasso che era avvenuto tre giorni fa circa è stato molto negativo difficile un ribasso del genere soprattutto in una fase in cui il mercato deve ripartire con un ciclo mensile che poi potrebbe essere anche addirittura quella dell'annuale non lo so ragazzi un pochettino la questione mi ha lasciato titubante proprio perché il mercato non dà dei punti di ingresso così agevolanti se vuole iniziare a salire e anche il fatto che oggi stesso stia facendo questa candelina qui che è una candelina in analisi tecnica estremamente pericolosa perché già domani se brecca i minimi di questa candela può crollare tranquillamente un po mi ha un pochettino messo titubanza perciò attendo ancora su questo tipo di analisi e anche per quello ho sviluppato diciamo un'analisi alternativa ora ve lo accenno ma poi ve lo andate a vedere diciamo sul canale telegram allora questa struttura per indicare l'inizio di un nuovo mensile deve breccare intanto le due medie mobili che avete visto quindi la gialla ancora quella lenta a 21 non è stata breccata quindi intanto deve breccare questa parte qui e iniziare a salire quindi almeno dobbiamo vedere un 37.000 dollari ma poi la cosa principale è questa il grafico di natura settimanale che è il grafico più bello in questo momento perché questa shadow molto pronunciata sull'ambito dell'ultimo minimo per la settimana 21 giugno indica proprio palesemente come se qui sia stato chiuso un ciclo importante quindi il livello settimanale da breccare è circa il massimo della candela della scorsa settimana che è circa 37.6 allora questo 37.6 deve essere rotto da bitcoin al rialzo e dopodiché deve attestarsi in questa settimana almeno intorno ai 37.38.000 dollari questo tipo di logica indicherebbe che con tutta probabilità è iniziato un ciclo mensile e poi andremo ad aggiornare le nostre tipologie di analisi qualora invece non faccia una cosa del genere si va in questa altra ipotesi che oggi vi accenno cioè l'idea che il bitcoin potesse insomma può aver fatto un ciclo ternario di due mensili adesso mi sparate perché sto parlando complicato vi giuro non è possibile in nessun modo dirlo diversamente adesso vi prendo il bitcoin gold per farmi perdonare eccolo qua non quello vero che ragazzi allora ve lo prendo lo metto qui perdonatevi dicevo per la mia difficoltà nell'esprimermi comunque allora il concetto è questo che potrebbe aver fatto due aver iniziato due strutture di cicli mensili di natura ternaria con un approccio fatto in questo modo ok questo tipo di logica potrebbe essere accettata dal mercato se nell'ultimo movimento bitcoin non riesce a fare grandi numeri se non riesce a fare grandi numeri questa fase iniziale potrebbe essere semplicemente un terzo movimento che poi va a chiudere tutta la struttura dei due cicli mensili quindi 60 giorni di natura ternaria a questo punto li va a chiudere intorno a metà di luglio allora questa è la più tecnicamente ribassista secondo me perché se fa una cosa del genere l'ho spiegato nel video telegram andatevelo a vedere probabilmente fa nuovi minimi io sono ancora resto sulla più iniziale ragazzi perché è la più standard e quindi anche sul ciclo settimanale anche sul grafico settimanale che vi ho appena mostrato quella più è secondo me la più è quella più diciamo probabile però questa cosa che vi ho fatto vedere c'è queste ipotesi c'è quindi teletano comunque in considerazione se dovessimo vedere un po' queste strutture cambiare sicuramente mi indirizzerò poi sulla view di natura ternaria l'ho spiegata perché a me piace condividere quello che penso ok non vuol dire che poi lo seguo perché non la sto seguendo in questo momento però sicuramente ne prendo ne prendo atto di questa questione va bene allora passiamo al focus su eth perché perché th invece a differenza di bitcoin come sta facendo da un po' di tempo ha indicato una chiusura di ciclo molto più pulita anche questa questione legata al fatto che th insomma abbia o stia indicando diciamo una chiusura di ciclo tra l'altro in concomitanza del suo fork che dovrebbe avvenire a momenti il eccolo qui ragazzi vi faccio vedere anche la news in questione eccolo qui il fork london che dovrebbe venire appunto tra poco per quanto riguarda iter e insomma il break magari avviene anche per circostanze legate al fork ci può stare assolutamente comunque in linea di massima il la struttura ciclica di iter potrebbe essere finita proprio è anche meglio addirittura di bitcoin in concomitanza con l'ultimo minimo questo doppio minimo fatto giorno 26 di giugno e in questo caso la struttura verrebbe confermata ma talmente bene che insomma è bello anche vedere una cosa del genere perché sono 18 giorni è veramente molto più preciso molto più pulito l'atteggiamento di iter rispetto a quello di bitcoin negli ultimi periodi allora ancora i segnali sono brevi in questo momento la giornata di oggi fa il breakout di questo ultimo swing quindi da un punto di vista di analisi tecnica questo break è un buy il primo buy però è anche il più pericoloso perché è un buy di questo tipo è un buy che è il più rischioso perché il mercato può reversare il giorno dopo e vi manda in stop ragazzi però quello è un buy un buy tra l'altro anche di medio periodo perché poi il mercato deve andare a breccare la cosiddetta trend line discendente che unisce questo tipo di di canale che è il trend discendente di eth ok e se brecca poi questa domani dopo domani se brecca questa trend line inverte nel breve periodo definitivamente è sempre meglio anticipare il mercato perché soprattutto le cripto in questi contesti magari un break di questo tipo ce lo fanno così perché le cripto sono così ragazzi ok poi ovviamente in questo caso magari sarebbe un eccesso che un 30% però insomma l'idea che eth possa iniziare a fare una cosa del genere c'è perciò da un punto di vista tecnico un po meglio in questa fase questo lo dimostra anche il grafico eth contro btc che ha raggiunto nuovamente il pullback del livello famosissimo ormai che vi avevo indicato mesi addietro nel video dove vi parlo dei target per il 2021 di eth video splendido ragazzi chi non l'ha visto andatevi a vedere quel video a parte che è uno dei miei più visualizzati ma insomma veramente molto bello anche il fatto che vi spiegavo che eth probabilmente contro btc sarebbe stato in questa finestra per un po di tempo proprio perché sono zone importanti queste quindi ci sta ha fatto un pullback sulla fascia bassa io oggi ho chiuso anche un'operazione di copertura che avevo su questo trend negativo avevo uno short eth btc ed è stato chiuso proprio perché il rimbalzo il pullback di 0.055 è importante quindi tutto lascia presagire che eth potrebbe anticipare un'inversione di trend importante magari nelle prossime settimane ciclicamente se qui ha chiuso la sua struttura l'ha fatta di natura ternaria anche qui è visibilissimo la struttura ternaria del mercato ciclico e poi dovrebbe riprendere la sua consueta fase con cicli che solitamente fa cicli da 120 giorni come quelli che state vedendo oppure comunque diciamo dei noi la vediamo un po più larga eth rispetto a bitcoin ragazzi comunque in generale potrebbe fare un classico mensile così come io di solito lo analizzo meno preciso eth rispetto a bitcoin perché se è bitcoin facciamo un'analisi pulita a mensile th gli diamo più spazio per vedere anche cose che magari su bitcoin non si vedono quindi è carino proprio per questo modo farlo un po' diverso allora prima livello di resistenza per iter in questo momento è sicuramente tutta questa questa zona adesso vi faccio vedere proprio il livello che è intorno ai 2300 dollari questo è il primo livello di resistenza molto rilevante questo livello di resistenza perché anche un pullback e la zona ragazzi come sempre ricordatevi che qui non siamo in altcoin ma quasi quindi la zona va da qui da questa parte in basso quindi 2002-2003 quindi non è possibile per quanto riguarda iter andare a essere dettagliati precisi sul dollaro perché con le volettilità che ha la regina è chiaramente insomma c'è da stare attenti a queste cose quindi però questa zona è una zona di resistenza dovesse breccare per caso questa zona incontrerebbe poi la media mobile a 50 periodi al di sopra della quale sicuramente trendi breve ovviamente sarebbe completamente rialzista poi probabilmente potremmo anche tentare di arrivare qui ovviamente stiamo sognando in questo momento perché questo è il vero livello di resistenza in questo momento da battere per iter nei prossimi mesi barra settimane quindi 3000 dollari in linea di massima bene ragazzi allora per oggi è tutto super video super analisi per quanto riguarda a iterium e bitcoin anzi vi do anche un'altra chicca è possibile a questo punto anche ragionare andando a guardare lo switch tra iterium e btc perché se iterium dovesse dimostrare più forza forse sarebbe meglio tenere un po' e th maggiore esposizione rispetto a btc cioè livellarla meglio magari invece di fare non so 80% btc 20 eth potremmo fare 70-30 60-40 qui però anche sul grafico eth btc lo scoglio rilevante è rappresentato sempre dalle famose due medie qui sono medie differenti perché sono le 52 e le 26 che sono medie calcolate ragazzi a diciamo i giorni reali perché non sono quelli standard perché sapete che le cripto sono aperte always 7 su 7 e 24 h e quindi tecnicamente queste medie sono più incolerenti però non sono magari quelle che tantissimi usano quindi pro e contro di questo discorso ne ho parlato l'altra volta allora questa zona quindi 0.067 e poi famosa zona mediana 0.07 è sicuramente un punto dove th potrebbe anche arrivare e poi magari continuare questa sua struttura di congestione però tenetelo a mente perché questa cosa è possibile quindi magari andare a ricalibrare, ribilanciare quelli che sono le posizioni btc e th potrebbe essere interessante fermo restando che c'è il problema enorme che se non è iniziato un nuovo ciclo rialzista imponente th poi essendo una cripto a maggiore volatilità di bitcoin vi dà la botta quando sale ma anche quando scende quindi tenete la mente va bene per oggi è tutto vediamo se girano le carte ragazzi vediamo un po' quello che si può fare siamo sempre lì con la nostra view da più di un mese e mezzo ad attendere che i mercati diano segnali di break vediamo se questo ciclo mensile è stato effettivamente chiuso se bitcoin ce lo indica oppure se ne va per la view ternaria che sarebbe bruttina e th in questo momento ok mi piace la reazione che ha avuto imponente molto interessante stiamo sul pezzo ragazzi non vi perdete le prossime settimane sulle cripto perché potrebbero essere molto importanti anche perché vedo che moltissimi stanno iniziando a disinnamorarsi come avviene sempre proprio prima di un nuovo trend questa cosa fateci attenzione ok va bene ancora non abbiamo diciamo passato i livelli di resistenza come vi ho detto però perché no valutiamola va bene ciao a tutti fatemi sapere cosa ne pensate ci vediamo nel prossimo video ciao